Il ministro per la pubblica amministrazione Renato Brunetta, ieri prima del vertice in prefettura, come è noto, ha incontrato i sindacati CGL, Cislewil e UGL sulla vicenda dell'internalizzazione del Contact Center IMSS che all'Aquila impiega in Comdata 550 lavoratori. I sindacati sono soddisfatti a metà. Brunetta non ha detto come, ma ha spiegato a sindacati e giornalisti che è in corso di risoluzione la loro vertenza e ha preso un impegno in prima persona di concerto con il ministro del lavoro Andrea Orlando. Le parole del ministro però non è che poi abbiano rassicurato più di tanto i sindacati. L'UGL ad esempio ha spiegato che avevano chiesto chiarimenti a Brunetta, che ha detto loro, che è impegnato in un grande piano di stabilizzazione e nuove assunzioni nel pubblico impiego, ma ha rinviato ogni chiarimento sulla procedura di internalizzazione del personale del Contact Center IMSS ad approfondimenti sulla nuova norma, che in totale accordo con il ministro del lavoro hanno intenzione di inserire nella legge di bilancio. Anche la CGL, come la CISL e la UIL, assieme all'UGL, ha consegnato un documento contenente le proposte e la loro contrarietà a nuovi interventi legislativi. I sindacati ora spingeranno per un approfondimento tecnico urgente con il Dipartimento della Funzione Pubblica, avendo avuto la disponibilità dal Capo Dipartimento. Del resto per i sindacati la legge c'è e si chiama Clausula Sociale e la società IMSS-PA ha l'obbligo di applicarla. I imperterriti sul bando e la non applicazione della clausula, come hai detto tu, purtroppo sono tanti i lavoratori che rischiano il posto di lavoro. Noi siamo qui proprio per chiedergli di evitare questo. Noi chiediamo che venga applicata la legge di Stato, che prevede l'applicazione della clausula sociale, così come anche riportato all'interno del contratto nazionale delle telecomunicazioni. Non c'è motivo per cui la clausula sociale non debba essere applicata. Noi continuiamo a batterci per evitare centinaia di esuberi, anche fra i 500 dell'Aquila, che sono qui da oltre dieci anni. Siamo qui per cercare di chiedere al Ministro Brunetta, già che continuano a girare voci di pareri anche del Ministero della Funzione Pubblica, che sarebbe contrario all'applicazione della clausula sociale, l'unica norma da applicare da parte della società dell'IMS, come ha indicato anche il Parlamento all'unanimità. Io credo che la Funzione Pubblica non sia e non possa essere d'accordo, però veniamo qui, approfittiamo della visita molto utile del Ministro all'Aquila per chiedere almeno di spazzare via questo equivoco da questa battaglia che penso durerà ancora parecchio. Grazie a tutti. Grazie. 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 Grazie a tutti.